... Auguri nonna! Con il video di oggi ci troviamo in Piemonte, in Valsesia, in provincia di Vercelli, a Piode. Iniziamo festeggiando il compleanno di mia mamma e proseguiremo con una bella camminata. Oggi siamo io, mia mamma, i piccoli Leone e Viola. Dopo aver salutato Valentina Marco, lasciamo alle nostre spalle l'hotel Giardini. Abbiamo lasciato la macchina proprio di fianco nel postigio gratuito. E da qua parte il nostro giro di oggi. Oggi percorreremo un tratto della ciclabile dell'Alta Valsesia che collega Balmuccia ad Alagna. Oggi facciamo vedere il tratto da Piode a Campertonio. Adattissimo ai passeggini anche, quindi ottimo. Oggi la nonna non ci abbandonerà. Tutto da Piode a Campertonio. siamo fermati a fare una sosta all'area giochi c'è anche area picnico qua c'è indicato che si può fare un percorso sensoriale che si chiama la via dei caprioli e anche attività con gli asini mamma com'è la passeggiata di oggi? fattibile oh qua stanno facendo, stanno tirando su le balle di fieno Leo hai visto? hai visto che hai visto che hai visto? Morda il gallo leo? Uefa? ringraziamo agnese che ci ha fatto conoscere i cavalli fulmine e fiorello fiorello ha 29 anni fulmine un anno e mezzo adesso ripartiamo c'è un tratto in salita pendenza 10 per cento questa viola che ha già capito come la faccenda si sta lamentando no 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 Grazie a tutti. La nonna e Viola sono rimaste sulla ciclabile, io e Leo siamo venuti qui a vedere un po' le viuzze di questa frazione che si chiama Quare, molto carina, e adesso l'abbiamo attraversata, cerchiamo di ricollegarci alla ciclabile. Insalata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dopo poco più di 4,5 km siamo arrivati a Cantertonio, spero che anche questo video vi sia piaciuto e ci vediamo presto con nuove avventure. Ciao. 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 Ciao.